Buongiorno a tutti, io poi sono intervenuto ieri, ma più ponendo alcuni temi di dibattito alla discussione di ieri, qui voglio intervenire come militante del PD e dell'associazione guidata da Gianni Cooper, lo Sinistra Dem, per portare davvero un contributo molto veloce, stando nei tempi che ci sono stati dati, su tre temi. Il primo riguarda noi, domani sera noi abbiamo la direzione nazionale del PD, una direzione impegnativa, importante, io vorrei portare la testimonianza di quello che siamo noi qui oggi e vorrei dire agli altri componenti della direzione, al segretario nazionale, agli altri che saranno lì, che noi siamo veramente il contrario di gufi che remano conto il PD. Qui c'è gente che crede al PD, che ha i valori e gli ideali del PD nel cuore, che al PD dedica sacrificio, impegno, tempo, passione e che rappresenta un valore aggiunto per il PD, una forza e un'energia di cui il PD ha tantissimo bisogno. E mentre penso questo, penso anche alla responsabilità che c'è sulle nostre spalle, di chi nel PD rappresenta i valori, l'identità della sinistra ed è anche riconosciuto dal popolo che si riconosce in quell'identità e in quei valori. Perché vedete, sarà perché io ho fatto il sindaco di Marzabotto, diciamo, incontrando i familiari delle vittime dell'ecidio nazifascista, ricordo cos'è costato il voto libero democratico in Italia, il prezzo pagato per avere il voto libero democratico in Italia, quando vedo tante persone che non vanno a votare, prima di tutto provo un sentimento di grande sofferenza e di grande preoccupazione, che deve riguardare certo tutti i partiti politici, ma deve riguardare anche noi. Perché lì ci sono tante ragioni in quella stensione, c'è una crisi anche complessiva della politica, ma ci sono tante persone che si ritrovano nei valori della sinistra che in questo momento hanno difficoltà a riconoscersi nel PD. E mentre noi dobbiamo chiedere a chi guida il PD di fare sentire tutte quelle persone a casa nel periodo democratico, dobbiamo sentire anche la responsabilità di fare la nostra parte perché quelle persone tornino nel PD, stiano nel PD, si battano col PD, rafforzando le ragioni della sinistra del periodo democratico e anche costruendo una sinistra che è in squadra col PD e che lavora per la vittoria, per il successo dell'azione di governo e dell'azione politica del periodo democratico. La seconda cosa di cui vorrei parlare, veniva citata in modo molto interessante nell'intervento precedente, io la penso in modo diverso sull'azione che ha assunto Rosi Bindi da Pietro, ma ne parleremo magari in un'altra occasione, ma penso che abbia fatto molto bene a citare, veramente molto bene, a citare con grande efficacia il tema del contrasto alla corruzione. Qui alcuni hanno parlato delle loro peoriafie, quando ero un ragazzo, quando ho scelto a che partito aderire, e nella mia famiglia pur nell'ambito della sinistra c'era una certa dialettica, poi c'è mia mamma che ho parlato oggi con Pieliani e le faccio anche gli auguri, ma c'era una certa dialettica, diciamo. Io ho scelto la Federazione Giovanile Comunista perché non avevo l'età di iscrivermi al partito, perché c'era Enrico Berlinguer che parlava in specifico di questione morale e penso che per noi la moralità, la legalità, la sobrietà, la disciplina e onore di chi svolge funzioni pubbliche che è scritta nell'articolo 54 della Costituzione, sono la prima condizione della nostra azione politica. Allora ha fatto benissimo Paolo Calvano nel suo intervento molto bello, che ha apprezzato molto, come quello di Bonaccini. Mi fa anche dire che abbiamo fatto bene a sostenere Bonaccini, presidente, Calvano, segretario regionale, in un lavoro unitario in entrambe le occasioni, che poi ha portato anche al fatto che sia stato eletto un bravissimo capogruppo come Stefano, presidente del Consiglio regionale. Dicevo che ha fatto bene Calvano a ricordare cos'è il PD, perché noi siamo anche i sindaci minacciati dall'Andrangheta in Calabria, siamo le persone che sono in prima fila nella lotta ai poteri criminali, siamo anche il partito che ha avuto il coraggio di commissariare Roma e di azzerare il tesseramento. Però quello che è successo, per esempio, con Mafia Capitale e anche del PD, non lo possiamo solo affrontare ricordando i nostri meriti. Dobbiamo dirci anche che è un problema politico che abbiamo, che va affrontato in tanti modi. In Parlamento abbiamo votato leggi importanti sui temi della corruzione, io ho avuto anche l'onore di essere relatore di maggioranza in Commissione Finanze, per quanto riguarda la Commissione Finanze in particolare, quando abbiamo ripristinato il reato di falso in bilancio, che Berlusconi aveva cancellato, abbiamo fatto il provvedimento sugli ecoreati, appunto un provvedimento complessivo molto efficace sull'anticorruzione, dove c'è anche il provvedimento del falso in bilancio. Ma guardate, dobbiamo sapere che non bastano le buone leggi. C'è un tema di cultura che riguarda tutti i cittadini, riguarda tutto il paese, riguarda le classi dirigenti. Io invito sempre a leggersi delle pagine molto belle di Gramsci sulla storia delle classi dirigenti italiane fino allora, fino a quel momento storico, e lì ci sono le radici anche per capire il presente. Poi è un grande tema che riguarda i partiti politici. Perché vedete, io ho citato Berlinguer, ma oggi la fase è veramente completamente diversa. Nel periodo di Tangentopoli il reato tipico era finanziamento illecito dei partiti. Adesso sono persone che occupano partiti deboli, destrutturati, gruppi di potere, e che quando rubano, rubano per arricchirsi personalmente. Allora rafforzare i partiti è assolutamente fondamentale. Vedete, questa è una terra che non visse Tangentopoli. Prima di tutto perché c'erano grandi partiti organizzati. Certo, c'era una grande tensione morale anche che aveva ruoli pubblici, ma c'era anche un controllo dal basso e dall'alto. E la terza volta che uno prendeva un autoblum un po' di troppo, c'era un altro che gli spiegava, che se la continuava a prendere, prendeva e andava a lavorare da un'altra parte. Questa è la verità. E allora io penso, ed è l'ultima cosa che voglio dire, che il tema del partito sia un tema su cui noi dobbiamo lavorare moltissimo. Io trovo positivo che su questo l'intero PD stia lavorando, abbiamo fatto una direzione nazionale, c'è un gruppo di lavoro, insieme al vicesegretario del partito, Guerini, a Orfini, a Stumpo, ha sottoscritto una proposta di legge che applica l'articolo 49 della Costituzione che abbiamo presentato recentemente, che molto si sintonia con una bellissima proposta sullo stesso tema che ha come primo firmatario Paolo Fontanelli che è qui, che ha firmato Gianni, abbiamo firmato tutti noi parlamentari di questa area politica. che poi c'è un lavoro sul partito democratico. Radicare e organizzare il partito democratico è fondamentale per la democrazia italiana. È il primo modo per contrastare i fenomeni di degenerazione ed è il primo modo per rendere anche più forte l'azione di governo, facendo anche un discorso sulla nostra identità. A me è piaciuto molto, come l'ha spiegata Calvano, mi pare che ci sia un'evoluzione positiva in questo senso del dibattito del partito democratico. perché vedete, se intendiamo partito della nazione per affermare il concetto, l'idea che in questo momento storico tanto del peso del governo del Paese è su di noi, questo è vero, ma se vogliamo invece dire che il problema è costituire una specie di contenitore indistinto, dove si prende dentro tutto, magari anche qualcuno che in alcune regioni del Paese se non arriva è meglio, e anche diciamo carezzando il pelo a quel trasformismo che spesso ha caratterizzato la politica italiana, faremo un grave errore. Noi dobbiamo costruire un grande partito della sinistra italiana e europea dentro il PSE che non si mette limiti a una battaglia di egemonia nella società italiana, che conquista elettori nell'altro campo, che guarda a un grande schieramento di centro-sinistra e al portare dentro di sé le forze e le energie del centro-sinistra, ma che si misuri con la grande sfida di costruire una sinistra moderna di questi tempi che affronta le sfide di oggi, ma con in testa il grande tema della giustizia sociale che ha sempre caratterizzato la sinistra. Perché vedete l'ultima veramente brevissima cosa che voglio dire sperando di essere stata nei tempi. La storia ci ha insegnato che è stato un errore drammatico pensare di poter conquistare la giustizia sociale senza la libertà e la democrazia, ma è anche vero che non c'è vera libertà e democrazia senza giustizia sociale. Perché il cassa integrato, il cinquantenne, il sessantenne senza lavoro, che deve andare col cappello in mano a chiedere un lavoro in nero a qualcuno, non è veramente libero. E finché ci saranno queste ingiustizie, non sarà realizzata la nostra democrazia, la democrazia della Carta Costituzionale. E affermare oggi questo indissolubile legame fra libertà, democrazia e giustizia sociale è il grande compito del Partito Democratico ed è il grande compito a cui noi che siamo qui siamo chiamati a dare un contributo davvero fondamentale. Grazie.